Dormire con le proprie amiche fa schifo, ok? Abbiamo tre tipologie di amiche La sonnambula Le cade una certa, ti giri e le trovi così Ma tutto bene? Un'altra lingua ha imparato, il giapponese nel so... Quella che ti ruba le coperte Ma... no, no, ragazzi, non ce la faccio Voi mi direte finita qui? No! C'è quella persona che durante la notte inizia a schiaffeggiarti, tirati calci i pugni E poi c'è l'altra Quella che nella vita è sempre un'anna affettiva, che non ti dà manco un abbraccio Ma nel sonno ha bisogno di abbracciarti, di toccare... Stammi lontana, zia, stammi lontana La migliore... la migliore è quella che si sveglia prima di te E ti aspetta così Allora... ti sveglia... quando si mangia andiamo a fare colazione Dove fare colazione? I mortacci tu e fammi dormire!